Già Lorenzo Blengini, tre punti importanti, fondamentali in una partita apparentemente facile, ma di facile come hai detto non c'è mai nulla, ti abbiamo visto concentrato fino alla fine. Sì perché lo diciamo sempre, se poi dopo lo diciamo e pensiamo che sia diverso, intanto si capisce, quando io insisto sul fatto che noi allenatori, più che quello che diciamo conta come ci comportiamo con i giocatori, insisto perché credo davvero in questo. E l'altra cosa è perché basta un paio di palloni che escono male, quando sei 12 pari nel primo set vanno via di due, di tre, ti innervosisci e le partite cambiano, l'abbiamo visto tante volte e quindi non bisogna mai abbassare la guardia. Nonostante abbiamo vinto agevolmente il secondo set, molto grazie alla battuta il terzo set c'è stato da lottare, io l'ho premesso a inizio terzo set ai ragazzi, prepariamoci a giocare punto a punto, così è stato. Abbiamo dimostrato maturità e credo che sia la vittoria il giusto premio per una partita che viene dopo una settimana in cui i ragazzi hanno allenato molto bene e in cui hanno portato in campo quello che come sempre si produce durante la settimana. Credo che sia una partita importante perché io credo che con la partita di stasera siamo matematicamente al playoff e essere al playoff che era il nostro obiettivo all'inizio dell'anno con cinque turni di anticipo sulla fine della regular season credo che sia un risultato straordinario. E' chiaro che questo è un punto di partenza, i ragazzi lo sanno, io ce l'ho molto chiaro nella testa, un punto di partenza per continuare a cercare di studiare le squadre che ci precedono per cercare di capire che cosa possiamo fare meglio per essere più competitivi contro quelle squadre lì. Due le incontreremo a breve che sono Modena e Macerata e prima però c'è una partita difficile, molto difficile contro una Piacenza ferita a casa loro che viene da otto sconfitte consecutive e che farà di tutto e anche di più per cercare di tornare alla vittoria. Perché conosco molti di quegli uomini più che di quei giocatori e so che davvero faranno di tutto, quindi noi non possiamo non tenerlo in considerazione se vogliamo cercare di crescere con i risultati perché i risultati aiutano a lavorare meglio e crescere anche eventualmente se è possibile nel ranking dal punto di vista della classifica. Però io credo che le cose vadano affrontate passo per passo, io credo che la prima cosa sia allenare bene martedì, tanto per dirne una. Belengini, è difficile ovviamente in questi casi fare classifiche di merito ma al di là dell'MVP della serata crediamo che Andrea Semenzato abbia giocato la sua miglior partita da quando è qui a Latina. Ma sì, io credo che questa squadra sta dimostrando anche davvero tutte le virtù che ha, noi abbiamo visto Rossi giocare molto molto spesso e non solo perché Semenzato nella prima parte aveva dei problemi fisici ma perché Andrea aveva un ritmo di gioco importante. Semenzato continuando a lavorare nonostante non toccasse campo con grande impegno è cresciuto di rendimento, quando la squadra ne ha avuto bisogno si è fatto trovare pronto, lo stesso vale per Scrimov che nel generale d'andata ha giocato molto poco, ha giocato molto Rowerding, adesso lui sta giocando bene, Rowerding quando c'è bisogno viene dentro, stasera ha toccato tre palloni, li ha toccati tutti perfetti, questo è davvero quando si parla di squadra se ci si vuole riempire la bocca e dare fiato alla lingua, far prendere l'aria alla lingua, ma invece io penso che questa squadra abbia delle risorse non solo nei 6-7 che giocano ma anche negli altri uomini perché agli altri uomini io chiedo lo stesso impegno che chiedo a quelli che giocano di più durante la settimana e quindi è giusto che se ne ho bisogno io li chiamo in causa e ne chiamo in causa perché ho fiducia e credo che queste partite siano la dimostrazione.